Tutti i bambini sono fatti! Mi dispiace molto e non voglio che il banco stia vuoto. La rivolgono tra i banchi di scuola gli amici dell'alberghiero di Maruggio. Sara, che avrebbe dovuto frequentare la seconda A, manca a tutti. Mancano i suoi sorrisi, dicono. Ritorna presto. La scritta campeggia su uno dei quattro cartelloni esposti questa mattina davanti all'istituto. Una cinquantina di studenti hanno partecipato al sit-in organizzato dal rappresentante Paolo Cheratti, di 18 anni, e da altri compagni di scuola di Sara. Il giorno della scomparsa, la ragazzina è uscita da casa alle 14.30 per raggiungere l'abitazione della cugina, Sabrina Misseri, ma lì non è mai arrivata. 24 ore prima che la ragazzina sparisse nel nulla, le cugine discussero tanto violentemente, pare, che a Sara vennero le lacrime agli occhi. Le trattaneva, è stato detto da un testo e astento sulla soglia della birreria dove avevano dato appuntamento agli amici. Oggetto del contendere, Ivano, pare, il pasticcere 28enne per il quale Sara aveva preso una cotta e con il quale la cugina Sabrina aveva una tenera amicizia. Le tracce si perdono definitivamente alle 14.42 quando il cellulare di Sara viene spento e non sarà mai più riacceso. Lo stesso telefonino che Michele Misseri, lo zio di Sara, ha ritrovato in un podere dopo oltre un mese dalla scomparsa. Una delle strane coincidenze, così come l'ha definita il procuratore capo Franco Sebastio, di questa vicenda fitta di misteri. I ragazzi hanno organizzato la manifestazione per stare vicini alla famiglia di Sara e tenere alta l'attenzione sulla scomparsa. Non vogliono, dicono, che questa storia accada nel dimenticatoio. Sono passati 38 giorni e il suo banco è ancora vuoto. Tutti la vogliono ancora a scuola. La manifestazione è stata organizzata dagli studenti senza il consenso di docenti e dirigente scolastico. Ero una ragazza che frequentava questa scuola ed è giusto che noi siamo qui vicino alla scuola appunto per lei. Io spero che Sara sta bene e voglio che ritorna il più presto. Voglio che ritorna presto. Più passa il tempo, più non sappiamo che fine ha fatto, come sta. Allora, detto in poche parole, sarebbe come mantenere vivo il nostro pensiero verso Sara. Quindi tu sei amico di Sara sin dall'infanzia. Parlava sempre delle stesse cose, tipo del ragazzo che gli piaceva tanto e che lei non riusciva ad avere. Oppure, che ne so, che si era litigata con un'amica per esempio e non riusciva a stare bene con lei. La prendevano in giro. Faceva dei giochi stupidi in classe con le amiche. Cioè faceva solo casino in classe praticamente. Da quanto ne so io, adesso non so bene. Giochi stupidi tipo? Tipo molti giochi che sono andati di moda, sono andati l'anno scorso, dei giochi veramente stupidi. Tipo uno che praticamente è trattenendo il fiato fino a un certo punto e si sveniva completamente. Intanto continua il lavoro anche di carabinieri del Nucleo Subacui per scandaglieri Pozzi e Cisterne. Questa mattina Concetta Serrana Spagnolo, la mamma di Sara, è stata ancora dai carabinieri in Via Magenta per chiedere notizie sulle indagini in corso. I carabinieri controllano le campagne tra Vetrana e Nardò dove è stato ritrovato il cellulare, bruciacchiato e privo della scheda SIM e della batteria.